Cari amici della Udine Volley, quest'oggi siamo in compagnia di Natalia Malovic, centrale della B1 targata IOP Group. Ciao Natalia! Ciao a tutti! Tu vieni da una grande esperienza già passata nella categoria di B1 e quest'anno ti sei avvicinata al capolongo frilano. Cosa si prova? Si provano tante belle sensazioni. Una di quelle, la prima, è quella di essermi avvicinata a casa perché ho fatto le due stagioni precedenti molto lontana e quindi come prima cosa ho in testa un po' di avvicinarmi a casa. Poi comunque so che qua è un bello ambiente e tutto e perché no? Hai già avuto una settimana per allenarti con le tue compagne e lo staff tecnico, com'è andata? Molto bene, meglio del previsto, meglio di quello che mi immaginavo perché di solito i primi giorni sto con la lingua di fuori e invece ci siamo organizzati molto bene, abbiamo fatto allenamenti graduali, cioè è stata una bella organizzazione e devo dire che come inizio è un ottimo inizio. Un'ultima domanda, cosa ti aspetti di poter dare alle tue compagne? Mi aspetto e spero di riuscire a dare il massimo sia a livello tecnico che a livello caratteriale, sia alle compagne che allo staff perché già da quello che hanno dimostrato pure loro sono pronti, sia alle compagne che allo staff, a dare il massimo pure loro a me e quindi cercherò di ricambiare come ricambiare, come riesco, sì. Benissimo, allora non mi resta che augurarti un grosso in bocca al lupo per il campionato e per l'intera stagione e ci vediamo prossimamente. Grazie, crepi il lupo. Grazie a tutti. Grazie a tutti